La Vice Presidente della Regione del Veneto, Assessore all'Infrastruttura Elisa De Berti, ha annunciato la pubblicazione della gara per l'affidamento del contratto d'appalto per gli interventi di videosorveglianza e per l'adeguamento degli impianti elettrici delle stazioni della linea ferroviaria Adria Mestre. Obiettivo principale di questo investimento è garantire una maggiore sicurezza nelle stazioni e nelle fermate, con particolare attenzione all'ambiente e alla riduzione dei consumi elettrici degli impianti obsoleti. All'interno di ciascuna stazione fermata della linea ferroviaria saranno realizzate impianti di controllo degli accessi delle sale d'attesa e dei locali tecnici, nonché impianti di videosorveglianza per monitorare le aree della stazione 24 ore su 24. L'importo complessivo dell'intervento è di 460 mila euro e sarà finanziato con risorse regionali. Infrastrutture Venete sarà lente appaltante. I lavori inizieranno a settembre con una previsione di completamento in febbraio del 2024. Oltre alla videosorveglianza saranno effettuati anche interventi di adeguamento degli impianti elettrici e di forza motrice delle stazioni, delle pensiline, delle banchine di stazionamento e dei sottopassi. La linea Adria Mestre è di proprietà della Regione del Veneto ed è di fondamentale importanza per collegare le province di Rovigo e di Padova. Questi interventi rientrano in un progetto più ampio di adeguamento delle stazioni ai livelli di interoperabilità internazionali anche per le persone a mobilità ridotta che Infrastrutture Venete sta attualmente sviluppando. L'ente ha già pronto un primo livello di progettazione del valore di circa 12 milioni di euro che sarà attivato per fasi funzionali. Il progetto riguarda le stazioni ferroviarie di Porta Ovest, Mestre Venezia, Oriago, Mirabuse, Camponogara, Zargrande, Coneca, Varzere. Per la stazione di Piove di Sacco gli interventi sono già stati realizzati in precedenti lavori di manutenzione. Per le fermate ferroviarie di Boillon, Campolongo Maggiore, Ponte Longo e Cavarzere Centro gli interventi verranno effettuati in corso d'opera, eventualmente sfruttando l'economia risultante dal contratto principale. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata a Vallespluga e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il Parco Commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.